E' destino che i nostri incontri si facciano qui al Duomo di Teramo, all'inizio e oggi. Si ricorda la prima intervista? Sì, sì, ricordo, ricordo. Senta, sulla giunta mi sembra che si siano fatti grossi passi in avanti. Sì, stiamo lavorando, sono fiducioso, ma insomma con buon senso e equilibrio troveremo una soluzione nei tempi dovuti, nei tempi necessari a creare un assetto che duri tutta la registratura. Quindi ci prendiamo il tempo necessario per fare le migliori riflessioni e tirare fuori la migliore soluzione. Ecco, la cosa più difficile è stata magari convincere Nazario Pagano e Forza Italia, oppure è stato tutto molto semplice? No, ma non è né difficile né semplice. Senta, invece dal punto di vista dei nomi ancora ci sono parecchi punti interrogativi, ma questo è normale che sia così? Sì, però per questo non commento ulteriormente. Ora, quando sarà pronta la diremo, è inutile fare indiscrezioni. Il primo consiglio è il 12? Esatto. Quindi sarà già un passaggio importante e si presenterà con la giunta, quindi i giochi dovrebbero essere fatti? Ovviamente, ovviamente. L'altro giorno lei è stata a Teramo per prendere coscienza del fatto che l'USR è in forte ritardo e che questo della ricostruzione sia il problema maggiore a Teramo e soprattutto in Abruzzo. È vero che la prima nomina che farà subito dopo la giunta sarà quella del nuovo direttore dell'USR? Ho già dato mandato agli uffici di fare l'avviso pubblico per la selezione del nominativo e quindi nei tempi previsti dalla legge esamineremo le domande che saranno nel frattempo pervenute. Lei quando lascerà il Senato? Presto. Non fa come è D'Alfonso? Non c'è nessun motivo. Non c'è nessun motivo.